Angelo Niconò rappresenta la Gladius Pescara Milan Academy. Voi formate questi ragazzi e poi sperate che possano arrivare al grande calcio, però l'obiettivo primario è quello di insegnare loro anche un'educazione fuori e dentro il campo. Rientra anche in questo il convegno che ci sarà alla provincia di Pescara? Sì, assolutamente sì. Noi lo facciamo da nove anni come Milan Academy ufficiale in Abruzzo e cerchiamo di educarli allo sport e alla vita in generale utilizzando i mezzi che lo sport ci dà per poter insegnare loro il rispetto delle regole, il rispetto del prossimo, il rispetto dell'avversario, lo stare insieme, quindi lavoriamo sin da piccoli, dall'età di cinque anni con la scuola calcio affinché questi valori possano essere trasmessi grazie poi al mezzo che abbiamo, cioè la palla e il campo. Quello della videodipendenza oggi è un problema grave che affigge i giovanissimi della nostra società e per questo ci sarà questo convegno alla sala Tinozzi di Pescara il 6 giugno. Dottoressa Napolitano, c'è molto da lavorare sotto questo aspetto per cercare di risolvere quello che sta diventando un problema dei giovani di oggi. Sì, infatti l'idea è nata proprio da questo, cioè è un tema attualissimo. Oggi le famiglie si trovano a gestire una situazione che pur essendo sempre nella nostra quotidianità oggi siamo sommersi di video, chi di noi non ha un cellulare, un tablet, un computer. Il problema però naturalmente diventa l'utilizzo sbagliato che i ragazzi possono fare di questi strumenti tecnologici. Quindi il convegno nasce proprio dall'intento di fornire alle famiglie degli elementi indicatori per poter individuare chiaramente quali sono i segnali che differenziano un utilizzo normale da quello patologico e dare indicazioni per poter intervenire in questa seconda situazione. Naturalmente l'argomento verrà affrontato sotto diversi punti di vista, ci saranno anche diversi colleghi propri del settore, c'è un collega del CERT, quindi abbiamo cercato di unire più professionalità proprio per fornire un quadro un po' più chiaro su questo aspetto. Il convegno è anche patrocinato dalla sezione abruzzese dell'IAMC, quindi interverranno diverse figure proprio per illustrare un po' le varie dipendenze da internet, da cellulare e dare poi una organizzazione concreta a tutto quello che può essere un intervento familiare pomeridiano con i ragazzi.